Siamo soddisfatti, davvero onorati e contentissimi di questa possibilità. Metodo Messina, abbiamo avuto l'intuizione felice di capire che bisognava preparare un corso di perfezionamento che prevedesse un periodo abbastanza lungo, un corso a Messina che va dalle 64 alle 72 ore, di formazione specialistica in un settore, quello del diritto all'immigrazione, che è attualissimo e che però coinvolge tutta una serie di specialità, di specializzazioni che non possono non essere considerate. Si spazia dal diritto penale alla procedura penale, al diritto delle due corti europee, al diritto ai diritti inviolabili dell'uomo, gli human rights, per arrivare poi a tutto ciò che riguarda la fase amministrativa della tutela del migrante, ancora l'antropologia, la psicologia, la comunicazione. Si tratta di un percorso ormai a Messina consolidato, siamo al terzo anno consecutivo, ci dà davvero grandi soddisfazioni, ci proietta in un'immagine di avvocato e di professionista nuovo e ci dà la possibilità di fornire una formazione specialistica ad altre categorie professionali. Il nostro corso è aperto ad operatori, il nostro corso è aperto ad altre figure, anche provenienti da formazioni diverse da quella prettamente giurisprudenziale.